Maximilio Robespierre è una delle figure più controverse della rivoluzione francese. È stato un leader radicale che ha contribuito a plasmare il corso della rivoluzione, ma è anche stato accusato di essere responsabile del terrore, un periodo di repressione politica che ha portato alla morte di migliaia di persone. Robespierre è nato ad Arras, in Francia, nel 1758. Studiò legge e divenne avvocato. Era un fervente sostenitore dell'illuminismo e dei suoi ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza. Nel 1789, Robespierre fu eletto deputato agli Stati Generali, l'Assemblea che avrebbe redatto una nuova Costituzione per la Francia. Si unì al Club dei Giacobini, un gruppo di rivoluzionari radicali. Robespierre era un oratore carismatico e un leader efficace. Si distinse per le sue posizioni radicali e intransigenti. Era convinto che la rivoluzione dovesse essere portata avanti fino in fondo, anche se questo significava ricorrere alla violenza. Nel 1792, Robespierre fu uno dei principali sostenitori della caduta della monarchia. Il re Luigi XVI fu ghigliottinato nel gennaio 1793. Con la caduta della monarchia, Robespierre divenne uno dei leader più influenti della Francia. Fu nominato membro del Comitato di Salute Pubblica, un organo che aveva il potere di governare la Francia durante la guerra. Robespierre guidò il Comitato di Salute Pubblica durante il terrore, un periodo di repressione politica che durò dal 1793 al 1794. Durante questo periodo, migliaia di persone furono giustiziate, tra cui politici moderati, nobili, preti e altri che erano considerati nemici della rivoluzione. Il terrore si concluse nel luglio 1794, quando Robespierre fu rovesciato e ghigliottinato. La figura di Robespierre è ancora oggi oggetto di dibattito. Alcuni lo considerano un eroe della rivoluzione francese, un difensore dei diritti del popolo e un martire per la causa della libertà. Altri lo considerano un tiranno, un responsabile delle morti di migliaia di innocenti. Robespierre è una figura complessa e contraddittoria. Era un uomo di grandi ideali, ma era anche un uomo disposto a ricorrere alla violenza per raggiungere i suoi obiettivi. La sua storia è un monito sui pericoli del fanatismo e dell'estremismo politico. Le idee politiche di Robespierre Robespierre era un convinto sostenitore dell'illuminismo e dei suoi ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza. Era convinto che la rivoluzione francese dovesse essere un processo di trasformazione radicale della società francese, che avrebbe portato alla creazione di una società più giusta e equa. Le idee politiche di Robespierre si possono riassumere in tre punti fondamentali. La sovranità popolare Robespierre credeva che la sovranità dovesse appartenere al popolo, e non ha un monarca o ha una classe privilegiata. La democrazia diretta Robespierre credeva che la democrazia fosse più efficace se il popolo fosse direttamente coinvolto nelle decisioni politiche. Il terrore come strumento di difesa della rivoluzione Robespierre credeva che il terrore fosse necessario per difendere la rivoluzione da suoi nemici interni ed esterni. Il ruolo di Robespierre nella rivoluzione francese Robespierre ha giocato un ruolo fondamentale nella rivoluzione francese. È stato uno dei principali leader dei Giacobini, il gruppo di rivoluzionari radicali che ha guidato la rivoluzione durante la sua fase più radicale. Robespierre è stato un oratore carismatico e un leader efficace. È riuscito a mobilitare il popolo francese e a guidarlo attraverso le fasi più difficili della rivoluzione. Robespierre è stato anche uno dei principali responsabili del terrore. Ha sostenuto la repressione politica dei nemici della rivoluzione, anche se questo significava ricorrere alla violenza. La morte di Robespierre Robespierre fu rovesciato e ghigliottinato nel luglio 1794. La sua morte segnò la fine della fase più radicale della rivoluzione francese. La figura di Robespierre è ancora oggi oggetto di dibattito. Alcuni lo considerano un eroe della rivoluzione francese, un difensore dei diritti del popolo e un martire per la causa della libertà. Altri lo considerano un tiranno, un responsabile delle morti di migliaia di innocenti. Robespierre è una figura complessa e contraddittoria. Grazie. 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 Grazie.